buongiorno a tutti anche oggi un breve aggiornamento sul mercato azionario italiano sono le 9 45 del 6 maggio oggi è una giornata di derisking il tweet di trump in cui amminaccia di aumentare le tariffe su 200 miliardi di beni importati dalla cina e di aggiungere altri 25 per cento di tariffe su 325 miliardi di beni importati dalla cina sicuramente ha spaventato il mercato un po cambiato lo scenario quindi stiamo assistendo a vendite generalizzate ma soprattutto sui settori ciclici soprattutto quindi sui titoli del settore tech sui titoli del settore consumer e sui titoli del settore industriale e auto quindi questo sostanzialmente il trend per il momento vi segnalo alcuni titoli per esempio brembo su cui ci sono volumi molto importanti e una predominanza degli ordini in vendita c'è poi anche generali assicurazioni su cui ci sono flussi in vendita vediamolo assieme vedete una netta prevalenza dei flussi in vendita rispetto ai flussi in acquisto con un aumento di volume rispetto alla media storica poi spostandoci sul sui titoli mid cap abbiamo venditori su elen quindi una netta prevalenza adesso di ordini in vendita mentre ci sono acquisti timidi acquisti su mertech remont vediamolo assieme vedete c'è una netta prevalenza degli ordini in acquisto rispetto agli ordini in vendita con dei volumi superiori rispetto alla media da guardare anche stm che è uno dei titoli particolarmente esposti all'eventuale rischio cina quindi sul titolo stiamo assistendo ad dei volumi più alti rispetto alla media alla presenza di ordini in vendita in apertura che però stanno un po' andando scemando quindi questo è il tema della giornata di oggi derisking sulle asset classi rischiose sui titoli ciclici e i titoli invece difensivi dovrebbero sovraperformare il mercato per ora è tutto vi auguro buon trading e una buona giornata